Negli ultimi mesi i reparti della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto 80 furbetti del reddito di cittadinanza, tra cui lavoratori nero, contrabandieri e venditori ammusivi che operano nei pressi della reggia. Di questi 64 illegittimi beneficiari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre nei restanti 16 casi è scattata nei loro confronti la segnalazione all'Inps per farli decadere dalla riscossione del contributo pubblico. Complessivamente sono stati 255 i componenti dei nuclei familiari, oggetti di controllo che sono poi risultati aver illegittimamente richiesto e percepito il sussidio in danno alle casse dello Stato, stimabile in oltre 200 mila euro, calcolando solo le somme già materialmente percepite. L'attività di verifica che si albalza delle specifiche banche dati a disposizione, in poche settimane ha permesso di sanzionare 80 persone. Di questi circa la metà lavoravano in nero e sono stati scoperti grazie ai controlli eseguiti proprio per il contrasto del lavoro irregolare o per l'avvio di ispezioni fiscali. Durante un controllo in un negozio, ad esempio, sono stati scoperti due coniugi che continuavano a vendere al dettaglio capi di abbiamento, ma utilizzando una partita IVA già chiusa e quindi non dichiarando alcun reddito, così da poter contare su un duplice vantaggio illecito. Da una parte non pagare alcuna imposta sul reddito e dall'altra di arrotondare, percependo anche il reddito di cittadinanza. Altre 25 persone sono risultate invece occuparsi della vendita al minuto di sigarette di contrabbando, abbigliamento con marchi contraffatti, OCD e DVD. Emblematico il caso di un ex titolare di un importante caseificio, il quale, cedute le quote dell'impresa ai propri familiari, continuava a tenere un alto tenore di vita, tanto da essere stato più volte fermato a bordo di un potente e lussuoso il quale ha richiesto e ottenuto anche lui il reddito di cittadinanza.